La nostra avventura volge quasi al termine, siamo arrivati all'ultimo concorrente, la tredicesima concorrente per l'esattezza, signore e signori Pamela Raonet e ci canterà il tempo di morire La nostra avventura volge quasi al termine, siamo arrivati all'interno del concorrente, la tredicesima concorrente per l'esattezza, signore e signori Pamela Raonet La nostra avventura volge quasi al termine, siamo arrivati all'interno del concorrente, la tredicesima concorrente per l'esattezza, signore e signori Pamela Raonet La nostra avventura volge quasi al termine, siamo arrivati all'altra Ma che ci posso fare? Io sono disperata Perché ti voglio amare Questa noce, adesso, sì, mi passa il tempo di morire, tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare, domani, ma adesso, adesso, dimmi di sì. E non dire no, e non dire no, e non dire no, prendi tutto quello che ho, mi passa il tempo di morire, tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare, domani. Adesso, adesso, dimmi di sì, e non dire no, e non dire no, e non dire no. Non dire no, non dire no. Perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì, mi passa il tempo di morire, tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare, domani, ma adesso, adesso, dimmi di sì. Non dire no, e non dire no, e non dire no. Non so chi amare, non dire no, e non dire no, e non dire no, e non dire no, e non dire no. Perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, dimmi di sì. Perché ti voglio amare, ma non dire no, e non dire no, e non dire no, e non dire no, e non dire no. Non dire no, non dire no, non dire no Aspetta qui, allora ha detto, mo che salgo non mi farei domande che me ne scorno come imbarazzo, adesso che le faccio adesso, dopo che hai cantato? Vorrei sapere di dove sei? Che lavoro fai? Barista È un brutto lavoro perché poi vengono a trovarti, ti criticheranno, soprattutto per i colleghi, soprattutto per la stick Ah, benissimo, c'è anche il nostro sponsor, facciamo un applauso Bene, adesso la giuria ha finito il proprio compito, i due garanti come preannunciato